Sarà il cinquantesimo presidente della storia del Foggia. Spera di diventare anche quello che nell'anno del centenario riconcili il Foggia con la parte più nobile della sua storia. Magari con l'immediata risalita in C1 direttamente dagli inferi della D. Roberto Fellica da ieri al bastone di comando del club rosso-nero assieme al socio d'affari Maria Pia Pintus con la formula del 50-50 che ultimamente pare essere diventata tanto di moda nel mondo del calcio. Ci arriva a conclusione di un estenuante testa a testa con il gruppo di Matteo che fino all'ultimo ha provato a contendergli la leadership e che pare non abbia digerito a cuor leggero la scelta di Landella. 49 anni, originario di Cagliari, Fellica opera nel mondo della sanità privata in Sardegna oltre che nel campo dell'edilizia ma imprenditorialmente le sue origini hanno a che fare con il mercato sardo degli ascensori. Per oltre un decennio infatti è stato amministratore delegato della Massid Ascensori l'azienda cagliaritana che da mezzo secolo si occupa di manutenzione e assistenza e che nel 2008 siglò una importante partnership con la ThyssenKrupp Elevator leader mondiale nel trasporto verticale ed orizzontale. A Foggia, Fellica giura che non sarà di passaggio anche se calcisticamente negli ultimi anni si è costruito la fama di affarista del pallone. A Como, in quella che è stata la sua ultima avventura, non fanno salti di gioia quando sentono pronunciare il suo nome. La scintilla con la tifoseria lariana non è mai scoppiata ma comunque ha lasciato in dote un club che ora può camminare sulle sue gambe, che era sprofondato in D e che nel giro di due stagioni ha riportato in C. Esattamente quello che ora si augurano i tifosi faccia da queste parti. L'accoglienza certo è stata tiepidina. Ieri a tarda ora sui cancelli dello Zaccheria gli Ultras hanno esposto uno striscione che non è proprio il migliore dei benvenuti. Ma riparliamone fra un paio di mesi, quando magari il Foggia veleggerà in vetta la classifica. Già, perché le vittorie cancellano tutto, anche le ferite più profonde da rimarginare.